La Vigna Fontana Si riteneva che la perfezione pittorica assoluta fosse stata raggiunta dagli artisti rinascimentali e che dopo di quella non ci fosse speranza di migliorare. Quindi non restava che imitare la pittura del passato, da cui il nome Manierismo, dove lo spazio è strano, le figure si allungano e si contorcono come impegnate in uno sforzo misterioso. I colori sono brillanti e violenti, i volti diventano a volte minacciosi. Tuttavia, quando si tratta di donne, ci sono sempre delle sorprese e le opere di Lavinia Fontana non fanno eccezione. Ebbe la fortuna di frequentare la bottega del padre e di apprendere da lui i primi rudimenti e le tecniche pittoriche e di conoscere gli artisti più importanti dell'epoca, tra cui Sofonisba Anguissola. Dai tempi di Lavinia fino all'Ottocento con le impressioniste, per preservare, tra virgolette, la loro integrità morale, le donne non potevano frequentare le accademie e le botteghe. Potevano trattare solo generi pittorici domestici, non potevano studiare la matematica, perciò nemmeno la prospettiva ed era categoricamente vietato lo studio del nudo. Le donne che avessero preteso di saper dipingere un corpo nudo sarebbero state considerate donne di malaffare, quindi per poter apprendere a dipingere dovevano ingegnarsi ed essere astute, oltre che brave. Mentre i pittori si limitavano a essere bravi e a ritrarre ciò che vedevano e studiavano, inclusi i nudi, le donne dovevano superare mille ostacoli. Nonostante questo, non si sono arrese e hanno prodotto arte, superando difficoltà incredibili in un ultimo, il fatto che tra un quadro e l'altro dovevano pure partorire, riuscendo ad affermarsi come artiste e ricevendo gli stessi se non maggiori onori dei loro colleghi uomini, e venendo regolarmente dimenticate o ignorate dalla storia patriarcale dopo la loro dipartita. Dunque, il padre di Lavinia, dicevamo, come quelli delle pittrici Sofonisban Guissole e Elisabetta Sirani, più o meno sue contemporanee, era un umanista, colto, raffinato e ben inserito nei circoli culturali della città, e tutto questo giocò un ruolo decisivo nella formazione della futura pittrice, privilegiata perché ebbe accesso immediato e illimitato non solo alla pratica della pittura, ma anche al mondo della cultura, a differenza di quasi tutte le sue contemporanee. Le artiste che hanno operato tra Rinascimento e Ottocento furono tutte più o meno accomunate dalla presenza di padri intelligenti che permisero loro di coltivare virtù e talenti, aiutandole a diventare le grandissime donne e artiste che furono. I padri di Sofonisban Guissole e Elisabetta Sirani le mandarono a perfezionarsi da maestri importanti e fidati. Elisabetta Sirani, poi, lo ricordiamo, fu anche la prima pittrice a dar vita a una scuola di pittura per donne intorno ai 25 anni. Di Sofonisba ed Elisabetta la scuola delle donne ha già parlato. Lasciamo il link in descrizione per chi volesse approfondirle. Lavinia ebbe molto successo come ritrattista. Si distinse per l'accuratezza nei dettagli delle acconciature e dell'abbigliamento femminile. I suoi ritratti erano molto richiesti da notabili e nobildonne bolognesi. Tutte ne volevano almeno uno, proprio per l'ottimo gusto e infatto di moda, ed è facile capirlo quando si osservano le sue opere. All'età di 25 anni, la nostra antenata sposò Giovanni Paolo Zappi, un mediocre pittore, che però fu funzionale alla carriera di Lavinia, diventandone di fatto la gente. Nel contratto matrimoniale si specificava che i coniugi avrebbero dovuto vivere a Bologna nella casa dei genitori di Lavinia fino alla morte del padre e che era dovere del marito occuparsi della gestione degli introiti che la moglie avesse ottenuto come pittrice. Era prassi dell'epoca, abbiamo visto che anche gli introiti di Sofonisba venivano ritirati dal padre e dal fratello. Il padre di Lavinia voleva essere sicuro che la figlia continuasse a praticare la sua arte anche da sposata e aveva sviluppato anche una strategia pubblicitaria proficua per lei. Molti dei suoi primi dipinti venivano donati o venduti a prezzi molto bassi e infatti, come osserva la storica dell'arte Caroline Murphy, il modesto costo delle opere combinato con il talento incredibile dell'artista, il suo tranquillizzante status di moglie, l'erudizione e l'educazione fidelizzavano una ricca clientela facendo di lei la ritrattista ufficiale dell'élite bolognese. Ritrasse molte donne in diversi momenti della loro vita, dal fidanzamento alla gravidanza alla maternità circondate dalla prole o vedove in lutto. In moltissimi ritratti le donne accarezzano un cagnolino. Il cagnolino, si noterà, è sempre lo stesso, probabilmente di Lavinia dipinto a memoria. Resta da chiedersi cosa volesse indicare con questo interessante dettaglio piazzato un po' dappertutto che a noi della scuola delle donne non potevano saltare all'occhio. Nel chiederci quale fosse il segreto del cagnolino abbiamo dato diverse interpretazioni, tutte legittime dal momento che non ci sono certezze ma solo ipotesi. Tra noi della scuola c'è chi sostiene che fosse il simbolo della fidelitas legato alla virtù e alla modestia della donna perfetta che la stessa Lavinia voleva incarnare. Chi dice che fosse il simbolo di Ecate, dea del passaggio all'altra dimensione, forse legato ai tanti figli di Lavinia morti prematuramente e co-significante, del teschio inserito nel dipinto di Santa Caterina da Siena. Chi ancora ci vede il simbolo del sostegno silenzioso e generoso alla tristezza della condizione femminile fin troppo evidente nei volti delle donne dipinte? Chi lo sente come una protezione, uno sprone e una guida divina dissimolata in modo da non dare nell'occhio? Chi lo percepisce infine come un naturale destinatario della tenerezza e del prendersi cura connaturato all'istinto materno in ogni donna? Lavinia si specializzò anche nei ritratti di bambine e bambini per i quali come donna e madre riusciva a sentire una speciale tenerezza. Tra i dipinti dedicati all'infanzia vi è il volto ridente di Antonietta González, affetta da ipertricosi. Il padre Pietro, affetto dalla stessa malattia, avendo sposato una donna bellissima, pare sia stato l'ispiratore della fiaba La Bella e la Bestia. A 25 anni Lavinia dipinse l'autoritratto alla spinetta, una vera e propria dichiarazione di intenti che lei regalò al marito. Nel dipinto si ritrae elegantemente vestita, che suona una spinetta con lo sguardo consapevole di sé e sullo sfondo un cavalletto, come per mettere in chiaro l'intento di voler essere una donna d'arte e di cultura soprattutto. In alto a sinistra, sulla testa della cameriera che regge lo spartito, si firma Lavinia Virgo, vergine, onesta e timorata di Dio e di onestissima vita e di belli costumi, ovvero dichiara che, sebbene artista, lei resta una donna onesta. Purtroppo le donne dovevano combattere continuamente con questo pregiudizio. Molte pittrici si ritraggono mentre dipingono, scrivono o suonano uno strumento per mettere bene e in chiaro che da sposate non rinunceranno alla loro arte. Mentre per gli uomini sposati era naturale continuare a dipingere o a scrivere, poiché era socialmente accettato che un uomo avesse una professione, una donna sposata normalmente smetteva di fare qualunque altra cosa per occuparsi solamente della gestione della casa e dei figli e figlie. Quindi le pittrici dovevano rimarcare con un atto di volontà molto chiaro ed evidente, come l'autoritratto, che nulla le avrebbe fermate dal continuare. Dovevano far valere il loro diritto. Si pensi a Karin Berge Larsson, promettente artista svedese che una volta sposata con il pittore Larsson non poté proseguire con la pittura a causa delle numerose gravidanze, ma si inventò di dipingere la sua stessa casa, i mobili e le supelletili, divenendo di fatto la madre dell'Ikea, come raccontato nel nostro docuvideo a lei dedicato, di cui lasciamo il link in descrizione. La dichiarazione di intento e il messaggio politico proto-femminista che anche lei ha voluto lasciare appare ancora più evidente nella Giuditta che decapita Oloferne. Un tema molto caro a un po' tutte le pittrici che dipingono la Giuditta come monito al patriarcato che non le volesse prendere sul serio, come dire lasciateci fare il nostro lavoro altrimenti ve la vedrete con noi. Proprio mentre realizziamo questo video è in corso una mostra di tutte le Giuditte rappresentate nell'arte, esplicata in un articolo di Luca Mozzati dal titolo Giuditta quando la donna dice basta. Ma la vigna di Giuditta ne dipinse addirittura quattro, di cui tre, proprio con la testa mozzata a fianco. In una vediamo addirittura la sezione del collo fresca, sanguinante, mentre l'eroina sta nascondendo la testa in una sacca tenuta aperta dalla sua ancella. Lo sguardo dritto e fiero di chi sa di aver fatto quel che andava fatto. Lavinia seppe coltivare legami e contatti altolocati, scelse per la sua prole padrini e madrine illustri dimostrando abilità nel consolidare la clientela e garantirsi la committenza. La pittrice, oltre ad avere grandi intuizioni artistiche, si troverà spesso a vivere diverse prime volte come artista. Ad esempio a 31 anni ricevette la prima commissione pubblica per una pala d'altare per la cattedrale di Imola, città natale del marito. Nel corso della sua carriera artistica di pala d'altare ne dipingerà un centinaio, un numero veramente esorbitante. Nella storia dell'arte occidentale lei rappresenta la prima opera dipinta da una donna a soggetto religioso per un committente religioso e destinata a una chiesa. Vero è che Sofonisba Anguissola dipinse una pala d'altare prima di Lavinia Fontana, ma non fu una committenza. Sofonisba la dipinse di sua spontanea volontà per omaggiare il marito morto in mare. Morto il padre, Lavinia e il marito decisero di trasferirsi da Bologna a Roma, insieme ai quattro degli undici figli all'epoca ancora in vita. Eh sì, Lavinia ebbe undici tra figlie e figli e senza smettere di dipingere. Undici gravidanze, quindi è lecito presupporre che dipingesse anche col pancione. Una donna di una tempra davvero straordinaria, ma sette creature morte in quale maniera possono influire sulla vita di una madre, ancorché artista. Come ha rappresentato Lavinia il suo dolore per tali lutti. A Roma, dove si inserì molto velocemente, godette di un periodo particolarmente brillante dal punto di vista professionale. Aprì una bottega che gestiva con il marito. La sua attività era talmente intensa che dovette addirittura rifiutare delle committenze. La fama di Lavinia raggiunse l'apice, allorché divenne la protetta di Papa Gregorio XIII, suo conterraneo. Lavinia eseguì moltissimi lavori per lui e per nobili e diplomatici della sua corte, che le meritarono l'appellativo di pontificia pittrice. Ricevette commissioni da personalità di altissimo rango, come il re Filippo II di Spagna, nobili, cardinali, vescovi e ancora nobildonne che se la contendevano per essere immortalate o per far ritrarre la famiglia o solo la prole. La sua bravura, unita al suo rigore religioso e alla sua immagine di donna virtuosa, le consentirono di ottenere anche commissioni per dipinti di genere sacro e mitologico, cosa parecchio inusuale per le artiste donne. Per celebrare il 450esimo anniversario della salita al soglio pontificio di Gregorio XIII, è stato scelto come identità visiva dell'evento proprio il ritratto del Papa dipinto da Lavinia Fontana. Insomma, una donna incredibile che non subì nessun pregiudizio da parte della società patriarcale in cui, lo ricordiamo, che per la tutela dell'integrità morale femminile le donne non potevano frequentare accademie, botteghe, non potevano studiare il nudo dal vivo né la tematica né la prospettiva. Ma, proprio mentre era al massimo del suo fulgore artistico e della sua carriera, morì sua figlia Laudomia, appena quattordicenne, e questo ovviamente velò di tristezza i successi della maturità. Negli ultimi anni la pittrice fu anche afflitta dall'artrite, che le rese doloroso l'esercizio della pittura. L'ultima sua opera risale al 1613, un anno prima di ritirarsi in un monastero assieme al marito, dove lasciò il corpo l'anno successivo a 62 anni. Forte della fama, dell'esperienza e dell'età, Lavinia si cimentò in una operazione rivoluzionaria, ossia dipinse il primo nudo femminile ad opera di una donna nell'arte occidentale. Minerva nell'atto di vestirsi in due diverse versioni. I due dipinti sovvertono completamente l'iconografia tradizionale a testimoniare l'originalità dello sguardo femminile nell'arte. Lavinia ci offre infatti un ritratto di giovane donna vista di profilo e in movimento, non tanto un corpo sensuale o una bellezza inerte offerta a chi la contempla, ma una dea ragazza volitiva, agile, longilinea e sbarazzina, che ha appena abbandonato le armi, lo scudo e l'elmo e che sta per rivestirsi di abiti borghesi. È interessante notare che nei suoi nudi femminili Lavinia non mostra mai i seni né il pube, quasi come se volesse, mostrando il meno possibile, proteggere i corpi delle donne da sguardi indiscreti e lascivi. Delle due minerve si vede solo il fianco, grazie a un ingegnoso escamotage ottenuto dipingendo l'imposizione ritorta per nulla naturale. I suoi nudi femminili erano molto casti e pudichi rispetto ai pittori suoi contemporanei, che invece ne offrivano di opulenti e dettagliati, anche nei particolari anatomici. In Gesù appara la maddalena, in un paesaggio dalla morbida luce serale, Miriam indossa un manto giallo dorato su un abito rosa e sandali azzurri. Di un simile rosa sbiadito è anche l'abito di Gesù che le sta accanto. La maddalena di Lavinia non si prostra a terra, ma sta saldamente inginocchiata e sicura di sé, non umile, ma fiera. Gesù poi, raffigurato con la veste corta, il cappello di paglia e la pala in mano come un contadino che ha appena terminato di zappare, è una proposta decisamente sovversiva rispetto all'iconografia tradizionale, mentre per contrappasso, e questa è una delle sorprese di Lavinia, la corona di spine lei la pone in capo alla sua santa Caterina da Siena. Ora, questa non è la prima volta che si sottolineano le eccellenti abilità di una pittrice dell'epoca. Da quando come scuola delle donne le stiamo scoprendo, non facciamo altro che stupirci della loro bravura. Ci domandiamo quanto tempo avranno impiegato per ogni opera, di quanta luce hanno avuto bisogno, se lavoravano anche la sera a lume di candela, per essere così perfette in ogni dettaglio quanto hanno dovuto praticare e sbagliare. Desideriamo concludere con un occhio di bue puntato sulla sua opera considerata più ambiziosa, la visita della regina di Saba al re Salomone. In questa tela è evidente non solo l'incredibile abilità di Lavinia che emerge dall'accuratezza e raffinatezza dei dettagli, ma anche il livello delle sue relazioni con l'alta società del tardo rinascimento italiano. Il dipinto infatti raffigura Vincenzo I Gonzaga, duca di Mantova, e sua moglie Eleonora de' Medici, con le sue dame in attesa. I Gonzaga si consideravano discendenti della regina di Saba e, passando da Bologna durante un viaggio, si misero in posa per Lavinia. In questo quadro è chiaro che il rango e il prestigio della nobiltà si manifestavano con l'esposizione di abiti e gioielli sfarzosi. Lavinia Fontana garantiva sempre che i beni più preziosi della committenza fossero rappresentati a dovere in tutta la loro ricchezza. Anche nelle scene bibliche ha sempre vestito le donne con gli abiti più eleganti e ricchi del suo tempo, affinando sempre più la sua abilità nel riprodurre con pennello gioielli e abiti. Lavinia Fontana è l'artista rinascimentale di cui sopravvivono più opere in assoluto. Libera, ambiziosa, desiderosa di cimentarsi in tutti i generi di pittura, anche quelli preclusi alle donne, fu indubbiamente instancabile e tenace, mantenendo un volume di lavoro altissimo nonostante le undici gravidanze. Senza dubbio superò i limiti imposti alle donne dell'epoca e a quelle di ogni tempo, che si ritagliò un ruolo di tutto rispetto nella società senza alcuna ostentazione e riuscì a conciliare il lavoro artistico e la fama con il ruolo di madre prolifica. Grazie a tutti.